Si gioca dunque! Mertens Occhio a Mertens Attenzione al tiro! Ballone che finisce Nani Occhio a Pjanic Commetterla da lì Pjanic! Hanno aperto le marcature con questo gol E vedremo Spartan in contropiede Ha un'autostrada a disposizione Non è passo e teso Vantaggio che comincia a farsi importante Due gol da recuperare, una per gli avversari E' ancora presto però per Tocco per Pjanic Quadrato Occasione per Quadrato Attenzione! E c'è il gol! Occhio a Pjanic Occhio a Pjanic A Pjanic Occhio a Pjanic Occhio a Pjanic C'è il gol Occhio a Pjanic C'è il gol